Sono quasi 100 i migranti arrivati in Salento in 24 ore dopo lo sbarco di 40 migranti a Otranto. Questa volta altri 55 sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza nel Capo di Leuca, a bordo di un'imbarcazione a vela scortata da unità navali delle Fiamme Gialle nel porto di Santa Maria di Leuca. Si tratta di 46 iraniani, 9 irachieni più due escafisti presunti di nazionalità ucraina. La macchina dell'accoglienza si è subito messa in moto, come da protocollo coordinata dalla prefettura, a prestare le prime cure il personale sanitario e medico della Croce Rossa. Verificato il buono stato di salute, i migranti sono stati accompagnati nel centro di prima accoglienza per l'identificazione e le ulteriori verifiche affidate al personale specifico della questura. Soltanto poche ore prima d'Otranto è raggiunta un'altra imbarcazione con 9 irachieni, 28 iraniani e 4 pakistani.